Il 26 dicembre scorso l'ultimo incidente mortale verificatosi sul viadotto Acragas. A perdere la vita Alessandro Bonamico, sedicenne in pedoclino precipitato giù dal ponte con l'auto dove si trovavano anche altre due ragazze. Da quel giorno, per l'ennesima volta, si sono riaccesi i riflettori sulla pericolosità di quest'arteria stradale, troppe volte teatro di tragedie. In tanti, nei giorni successivi, si erano impegnati per far qualcosa al fine di rendere sicuro il viadotto. Ma nonostante ciò, per quasi quattro mesi, guardrail, distrutti dai tanti incidenti, sono rimasti rattoppati con del fil di ferro. Oggi, per fortuna, anche se con ritardo, l'ANAS ha effettuato gli interventi necessari, ma nulla di estremamente rilevante per accrescere gli standard di sicurezza del viadotto, ripristinando solamente le barriere abbattute o in cattivo stato. Dopo gli interventi dei giorni scorsi, pertanto, tutto è tornato come era prima degli incidenti degli ultimi 12 mesi, compreso lo spartitraffico fracassato dopo l'incidente del giugno scorso in cui morirono madre, figlio, feto tenuto in grembo dalla donna e un anziano di Roccavalumba. L'auspicio è che definitivamente si intervenga in maniera decisa per assicurare la sicurezza agli automobilisti, rinforzando, ad esempio, le barriere di contenimento, se non in tutto il viadotto, almeno nei tratti potenzialmente più rischiosi, come quelli in curva o all'uscita dei lunghi rettilinei.